La la la! Aiuto, aiuto, aiuto! Il tuo mondo è così pericoloso! Ecco perché serve avere degli amici! Le ragazze della mia scuola si truccano insieme, vedi? Cos'è il trucco? Eh? Dove sei? Ah, ecco! Chiudi gli occhi! Ti piace? Lascia che ti mostri come fanno le sirene! Wow! Wow! Che bello, grazie! Ciao!